La guerra di Camorra, che si combatte a Miano da ormai dieci anni, diventa sempre più cruenta. Il duplice omicidio delle sedici nel rione Don Guanella, il quarto da quando infuria la lotta di successione dell'ex regno dello russo, ha convinto ancora di più inquirenti e investigatori che è diventata una polveriera la vasta area del quartiere di Secondigliano. L'ultimo sussulto di una delle tre faide infinite ha lasciato a terra senza vita Pasquale Torre, 47enne, fratello del pentito Mariano, killer di Geni Cesarano e Giuseppe di Napoli, 34, figlio del più noto Carmine Detto Miniello. I due amici, già conosciuti dalle forze dell'ordine e ritienuti vicini al gruppo di Miano di sopra, erano a bordo di una punto bianca nel parco dei Colombi quando sono sopraggiunti sicari su uno scooter. Per il luogo e l'orario dell'aguato gli investigatori più esperti non escludono l'ipotesi di una trappola, mentre tenderebbero a escludere l'ipotesi di una vendetta trasversale per il pentimento di Mariano Torre. Troppo tempo è passato. Ma al di là dei motivi resta il fatto cruento di un duplice omicidio avvenuto nel pieno pomeriggio davanti agli occhi di decine di persone e le reazioni politiche e istituzionali sono tante, soprattutto dopo la firma in prefettura alla presenza del ministro Lamorgese sul patto della sicurezza. L'ex governatore Bassolino ritiene necessario che il Consiglio discuta su come il Comune può e deve arginare il problema. Il capo dell'opposizione Catello Maresca chiede un tavolo istituzionale e fissa un incontro con Don Aniello Manganiello.